Durante il suo percorso di Twitch Fedez ha racconto un sacco di soldi tramite le donazioni della piattaforma. A differenza degli altri streamer però, come dice lui, visto che non ha bisogno di fare questo per accampare, ma non fa solo per passione, ha deciso di raccogliere tutti questi soldi e di far scegliere alla sua chat, quindi a chi li ha donati effettivamente, come distribuirli. La chat ha appunto deciso di donarli a 5 persone diverse, di 5 categorie in difficoltà per il coronavirus, e quindi 1000€ a testa. Fedez insieme a Simone Panetti ha preso il suo Lamborghini e si è diretto a Milano per donarli. Ovviamente i giornalisti gli hanno mostro varie critiche. Le due principali sono per la Lamborghini, quindi per il fatto che va a fare beneficenza utilizzando una macchina da 200.000€, e l'altra per il fatto che la beneficenza non si fa davanti alle telecamere, come è un po' il detto popolare. Lui si è ovviamente difeso, quindi vi lascio le stories, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea lo studio. Preme per correttezza, chiarire un attimo la situazione riguardo all'iniziativa che è stata fatta ieri sulle donazioni di Twitch. Visto che un paio di giornalisti hanno dato il loro parere, io vorrei un attimo per punti chiarire la situazione. Allora, innanzitutto Twitch è una piattaforma dove gli utenti donano dei soldi alle persone che fanno le live streaming, e solitamente le persone che streamano si tengono giustamente questi soldi, sono parte della loro remunerazione. Io, non reputando di averne bisogno, perché io streamo per passione, fondamentalmente perché mi piace, ho deciso di donare questi soldi. Essendo soldi di donazioni, per agevolare in qualche modo e rendere partecipi le persone che donavano questi soldi, non sono stato io a decidere né a chi e né come donare, ma hanno scelto gli utenti che guardavano la live, quindi a chi e come donarli. E io, per trasparenza e correttezza nei confronti di chi aveva donato quei denari, mi sono prodigato nel consegnarli, dedicando tutta la giornata di ieri a questa cosa. Tra l'altro, non ho ripreso per privacy i volti di molti di queste persone, solo chi ne voleva, e sono stati ripresi i volti solo di due persone, e questa è l'iniziativa. Quello che mi spiace è leggere negli articoli il modello della mia macchina come se questa fosse una discriminante. Io la mia macchina l'ho pagata regolarmente, non me ne vergogno. Mi spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa, che è a fin di bene, io non mi voglio esimere dal farlo, e quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo era il problema del mezzo usato.